Buona e santa serata a tutti, bentrovati. Io sono ancora qui, nella mia chiesetta, sull'altare e alle mie spalle il Santo Tabernacolo. Allora, questa sera vorrei invitarvi tutti a sostare qualche attimo in silenzio dinanzi al Tabernacolo e quindi dinanzi a Gesù e Eucaristia. Ognuno di voi lasci parlare il suo cuore, metta tutto nel cuore di Gesù. Intanto ci segniamo tutti insieme con il segno della croce, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato ogni momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Io mi metto un attimo da parte e ci rivediamo tra pochissimo per la benedizione. Preghiamo tutti insieme nel silenzio, guardando al Tabernacolo. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.